La danza, la moda, la musica per raccontare un mondo di fiabe e magie, di storie un po' capovolte e reinterpretate di principesse, principi, streghe ed eroi. Come in una faula sul palco di Piazza Matteotti a Capodorlando e andate scena alla sfilata danzante c'era una volta. Si tratta di una rivisitazione di storie e personaggi delle fiabe in chiave moderna, attraverso la moda, con gli abiti di Diana Andreotti Couture e la danza, con le coreografie del gruppo Caledoscopio, le musiche di Daniele Greco e le voci di Sonia Cerioni e Marcello Manfredi. Questo progetto nasce sull'onda dell'impegno sociale del comune di Capodorlando in collaborazione con il centro antiviolenza Pink Project. C'era una volta racconta le vecchie fiabe che ci hanno raccontato i nostri genitori, i nostri nonni da bambini e anche qualche fiaba un po' più moderna e le racconta in una chiave un po' diversa per far emergere quelle che sono le differenze, gli stereotipi che riguardano il genere maschile e femminile. Abbiamo cercato comunque di raccontarli con la danza, con i costumi, con la moda e con le musiche. Uno spettacolo per raccontare le fiabe classiche attraverso la rivisitazione moderna che rivoluziona ruoli e stereotipi per offrire nuove prospettive. Questo spettacolo è stato un pochettino il riassunto di quello che è lo stereotipo, l'annullamento dello stereotipo femminile nella nostra società. Abbiamo usato tutti i mezzi di comunicazione che conosciamo, la moda, la danza, il canto, la musica, tutto quello che fa parte della nostra cultura quotidiana. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che avevamo per comunicare qualcosa di nuovo, di diverso. Grazie per la visione!